Albatrava è la piattaforma leader in ambito B2B per la vendita di prodotti turistici, principalmente hotel e una serie di servizi accessori. Viviamo una fase di evoluzione organizzativa e quindi in questo momento stiamo lavorando su vari fronti, principalmente nel dotare e far diventare la piattaforma un vero e proprio strumento ad utilizzo e ad uso della gente di viaggio, dove ci può trovare l'hotel ma ci può trovare una serie di servizi che spesso fanno la differenza, specialmente nel proporre valore aggiunto al cliente, perché siamo convinti che i clienti vanno a fare il pernottamento ma poi vanno a Disneyland, poi vanno a vedere uno spettacolo a Broadway piuttosto che un trasferimento o se vanno a Londra a Gatwick andranno poi a prendere il Gatwick Express per andare in centro. Quindi un lavoro di riorganizzazione per far sì che questo strumento sia sempre più facile, più uno vero e proprio strumento di utilizzo del lavoro.